Controllare il prezzo su Amazon dopo aver già fatto l'acquisto della scheda microSD della Kingston a 7,99€ all'Eurospinner non è stata una buona idea. Apporato di aver speso di più, passati due minuti di imprecazioni, ho deciso di controllare se almeno una scheda microSD fosse originale. Contrasfare una scheda di memoria non è un'operazione difficile, infatti basta prendere una memoria di piccole dimensioni e riprogrammarla in modo tale da far apparire una dimensione differente da quella reale, oltre a riprodurre la parte grafica, log iscritti eccetera. Pertanto il modo più sicuro per verificare l'effettiva quantità dichiarata è quello di scrivere sulla scheda un file o più file della grandezza totale di spazio libero. L'operazione può essere fatta sia manualmente che simulata con dei programmi appositi. Nel video uso l'app Fake Device Test per Android, mentre con l'app CPDP per Android misuro la velocità effettiva di scrittura e di lettura. E' da sottolineare il fatto, più importante della truffa in sé, che se si sta usando una scheda falsa e si tenta di scrivere oltre la capacità reale, questa corromperà tutti gli altri dati già salvati, perché andrà a sovrascrivere i dati già presenti. Dunque se si vorrà continuare ad usare ugualmente la scheda falsa, ma in sicurezza, bisognerà riprogrammarla con la capacità reale con appositi delle procedure. Attualmente se si compra una scheda da un terabyte a qualche decina di euro, probabilmente non servirà nemmeno il test. Solitamente sono delle 16 GB riprogrammate. La durata del test varia in base alle dimensioni della scheda e alla velocità di scrittura e lettura, ma in ogni caso può superare anche alcune ore. Dunque bisogna armarsi di pazienza per avere l'insintagabile verdetto, utile inoltre per un'eventuale richiesta di reso. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, il mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Ciao.